Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito nella prima settimana, quella del 25-26 aprile, con la proposta degli animali nell'argilla, fagiano, faraona, colombaccio. Abbiamo quindi pensato di non ripetere la cosa, come tutte le cose belle e buone non vanno mai ripetute, e quindi abbiamo proposto una cosa diversa. Questa settimana abbiamo pensato di concentrarci su due degli argomenti che ci piacciono di più della primavera, e asparagi e spugnole. Purtroppo quest'anno non abbiamo avuto occasione di prepararvele da noi e quindi abbiamo pensato in extremis di proporvele a casa vostra due piatti molto classici, lasagne con gli asparagi e le spugnole e l'uovo amerigo con gli asparagi. Giacomo vi illustrerà il procedimento veramente molto semplice.